Diciamo che questa direttiva è stata approvata dopo tanti anni, 10 anni che c'erano colloqui con i portatori di interesse in merito a questa situazione. È una direttiva che ci vede ovviamente favorevole, sia perché riduce i costi per i consumatori di dover cambiare continuamente carica batterie, sia perché anche dal punto di vista ambientale sono comunque rifiuti in meno da smaltire. Diciamo abbastanza compatto, devo dire che abbiamo noi ottenuto per esempio questo periodo transitorio per fare in modo che il consumatore possa scegliere o meno se acquistare un pacchetto all'interno il carica batterie o meno perché dovrà essere indicato nel packaging almeno per i prossimi 4 anni se all'interno c'è un carica batterie o meno, quindi c'era qualche visione differente su questo.